Ciao a tutti, gli uomini temono spesso le donne profonde. Per quale motivo capita questo? Beh, il primo motivo è che una donna profonda, una donna con la D maiuscola, quando si relaziona vuole conoscere tutto di te, vuole entrare in sintonia. E questo spesso spaventa gli uomini, si sentono un po' invasi, diciamo, da questo punto di vista. Poi una donna profonda sa quello che vuole, sa, come dire, ha degli obiettivi chiari. E anche questo è una cosa che può spaventare gli uomini, che si vedono messi un po' alle corde. D'altra parte dobbiamo tenere presente che ci sono meccanismi difensivi che si manifestano in persone che sono insicure fondamentalmente di sé. Poi una donna con la D maiuscola non si fa controllare, vuole, diciamo, coerenza da parte del maschio. In molti maschetti la coerenza non ce l'hanno. E vuole anche un'intimità profonda, non soltanto un rapporto così basato su situazioni estemporanee. Quindi una donna profonda deve fare selezione, ha più difficoltà a trovare uomini. Infatti sono spesso le migliori, diciamo così, che sono single. Bene, per questo video è tutto. Seguitemi anche sul profilo Instagram Massimo Taramaschi. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al mio secondo canale Felicità e Benessere, di cui vi posto il link in descrizione. Ciao a tutti!